ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi torniamo con un haul e volevo farmi un haul un po' particolare e approfittarne per parlare di un argomento di cui volevo parlare da un po', e cioè vi anticipo solo l'argomento poi ne parlerò alla fine del haul, vi metto anche qui in sovrappressione, insomma qui troverete scritto al minuto in cui comincio a parlarne perché prima voglio dedicarne al haul, magari qualcuno non è interessato, non lo so e dedicato appunto al tipo di shopping che ho deciso di fare, la mia scelta non sapevole, quindi praticamente tutto ciò che compro è made in Italy questo non vuol dire che sia per forza costosissimo e non a prezzi troppo alti per la maggior parte delle persone, perché fidatevi io non spendo 400 euro per una maglietta quindi sì, questo haul sarà di saldi e non, però appunto non comprati nelle grandi catene di negozi, poi ce n'è già da cui ho deciso di non comprare più quindi ne parlerò, parlerò anche di negozi in cui potete acquistare, insomma in modo più consapevole tutto quanto nella seconda parte del video ora cominciamo con l'haul e prima cosa che vi voglio far vedere è la maglia che indosso è di Sandro Ferrone è un tessuto un po' sintetico, devo dire la verità però Sandro Ferrone mi piace molto perché ha delle cose molto molto carine e soprattutto nei saldi ragazzi ho trovato dei prezzi veramente incredibili comunque questo è il primo acquisto e mi sembra di averlo pagato in sconto 21 euro 25, non lo so e la adoro come noterete da questo haul, io amo il bianco, amo i colori neutri soprattutto sul vestiario sui rossetti un po' meno però sì, quindi non troverete nulla con i colori scioccanti perché è relativamente molto più una mia cosa da inverno piuttosto che d'estate non so perché quindi sì, prima questo da Sandro Ferrone che appunto a volte ha dei prezzi veramente convenienti dateci un'occhiata anche solo al sito se non ce l'avete se non lo avete in zona sempre da Sandro Ferrone ho comprato dei pantaloni un po' estivi, autunnali, primaverici, non sono infernali che sono questi infatti così a sigaretta si dice con l'orlo in questo modo sono molto leggeri comodissimi abbastanza stretti sulla caviglia leggermente corti e per me sono fantastici l'unico difetto forse è che sono un po' troppo a vita bassa cioè non sono a vita bassa però anche una vita alta, un centimetrino in più non mi sarebbe dispiaciuta ecco ha delle tasche finte qui e questa non mi ricordo siccome è a prezzo pieno costa 50 io l'ho pagata 40 40, 35 non mi ricordo comunque un prezzo veramente buono per questi pantaloni e c'era uno sconto del 20% non c'era tanto però comunque di loro anche a prezzo pieno costa poco che infatti ve li consiglio mia madre ha un modello uguale proprio lo stesso modello ma gestendo modi completamente diversi perché abbiamo due visi completamente diversi e le dure da anni veramente cioè la qualità è ottima e vedete che io adoro e sta benissimo con la camicetta ok passiamo passiamo ecco a ciò che ho preso in un mercatino dell'usato vicino a casa mia li fanno ogni 4 mesi più o meno e lì dovete stare attenti perché cercano di propinarvi di tutto infatti ci vuole un po' di pazienza perché molte volte vedi proprio c'è ciò che vorrebbero buttare ve lo mettono risperando che lo compriate però a volte si trovano delle chicche e a volte si trovano delle cose carine la prima cosa carina che non mi fa impazzire è palesemente un cinesato però era carino e un'altra cosa che voglio dire è che alla fine gli ho dato una seconda vita a questo vestito anche se ho deciso di prendere solo cose fatte in Italia e tutto quanto questo non l'ho comprato io direttamente quindi è come se gli avessi dato una seconda vita anzi gli ho dato una seconda vita ed è questo vestitino qui a me piacciono tantissimo queste boh come si dice frappe non lo so non si dice frappe comunque e mi piace tantissimo come cade l'unica cosa è che questo colore sta bene con la bronzatura perché se non sbatte un pochino è un vestito di cui non ero sicura non ero sicurissima e comprarlo perché appunto è un tessuto un po' così sono tessuti cinesi però vi devo dire che è comodissimo e l'indosso spessissimo perché non è elegante però è comodo lo metti non devi appinare niente va bene con tantissimi tipi di scarpe quindi mi piace tantissimo invece adesso vi mostro due chicche proprio chicche del mercatino dell'usato una risale addirittura ottobre però ne sono troppo fiera ed è questa adesso ve la faccio vedere indossata ed è questa questa giacca così autunnale un po' larga un po' lunga un po' vintage anzi questa è bella vintage vintage di parecchio e la cosa che mi piace di questa giacca e vi giuro che sono troppo fiera l'ho pagata 10 euro e ogni praticamente vi giuro ogni persona che ho incontrato all'inizio quando la indossavo mi chiedeva dove l'hai presa dove l'hai presa perché piace tantissimo c'è proprio non so se andasse anche di moda lo scorso inverno probabilmente sì però appunto un sacco di persone cercavano una giacca del genere e io ero troppo fiera di dire che l'avevo pagata solo 10 euro e che ce l'avevo solo io infine un'altra chicca del mercatino dell'usato è questa questa la amo alla follia via via e in questo orlo tenete il mio amore per il bianco e per le camicie e per il rosa questa camicetta qui che ha questo praticamente doppio doppio orlo sembrano due camicie messe insieme e potassi anche che sia così perché l'ho presa da una signora indiana che secondo me aveva preso le camicie vecchie le aveva un po' ricucite risistemate e aveva anche ricamato questo questo disegno qui questo e questo e ce n'è anche uno dietro sta benissimo con tutta una camicetta bianca è un po' più pesante quindi certo non è stinga è più autunnale primaverile non è trasparente quindi puoi metterci anche magari un'altra magliettina sotto d'inverno così rimane calda e io veramente mi dico la verità la adoro l'ho pagata tenetevi forte 3 euro mi piace pensare a me piace tantissimo avere qualcosa di unico qualcosa che solo io ho e mi fa impazzire un altro acquisto chiamato se non il mio preferito ve lo giuro non riesco non riesco a indossare altro costume se non questo e questo costume è intero qui e l'ho pagato 64 euro che se ci pensate alla fine un costume era fatto decentemente e ripeto fatto decentemente questo è un tessuto anche che non è trasparente è fatta da dio al corpo cioè proprio un'altra cosa la costare 50 euro da calzedonia sono 15 euro in più e questo è fatto a mano cioè cucito a mano da una ragazza che si chiama Alessandra e che ha una marca chiamata by Alice vi lascio qui il link al suo instagram e veramente io non vedo l'ora esca alla collezione invernale perché secondo me ha fatto della roba incredibile e lei si disegna le cose da sola e le cucie e poi si le vende attraverso il suo shop online o a un negozio mi sembra fuorli e io mi sono trattenuta molto questo modello mi fa impazzire è fatto così ha uno scollo così abbastanza profondo quindi va bene per chi non ha un seno esagerato e vi giuro mi fa impazzire anche la fantasia la cosa bella è che rispetto a tantissimi costumi non è morbido sulle curve sul sedere anche non vi straggola il sedere come molti costumi è morbidissimo si adatta in modo fantastico non lo sentite è fantastico veloce e c'è scritto vabbè qui by Alice made in Italy e poi qui tutto by Alice by Alice by Alice e adoro veloce lo adoro e sì sicuramente comprerò qualcosa anche di infernale dal suo shop perché per me lei è veramente brava e merita tanto poi ah e ditemelo se acquistate qualcosa da lei che sono curiosa e comunque guardate il suo shop non mi ha pagato niente di tutto ciò proprio ho comprato io il costume però l'adoro altra cosa andiamo a categorie questa cosa proviene appunto questo capo proviene diciamo da uno shop di una persona e basta quindi fatto a mano e una fantasia insomma pensata disegnata e tutto e appunto adoro avere qualcosa che ho solo io sono fatta così un'altra cosa che è splendida e ripeto a me piace comunque spenderci magari leggermente di più non è esagerato non è costato 300 euro il costume spenderci qualcosa di più sapere di sostenere una persona e la sua attività e magari anche il suo sogno e avere qualcosa in cambio in cui la persona proprio ci ha messo il cuore ci ha messo il cuore e altro oggetto simile è questo astuccio qui è di una ragazza che si chiama Roberta e il suo canale si chiama qualcosa di R ha anche uno shop Etsy e vende vari articoli di cartoleria e questo astuccio lei lo fa a mano cioè compra il tessuto e lo cucia a mano è spaziosissimo morbidissimo è una bellezza unica e sono disegni fatti da lei domani tornerà sereno è bellissimo è dei miei amati colori pastello anche questo sono stata veramente contenta di sia poter sostenere la ragazza che ha un talento veramente grande sia appunto di avere qualcosa che in pochi anni che comunque non sarà mai 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 identico a un altro perché è fatto male è comunque cucita male e questa persona nel disegno nella frase nell'astuccio ci ha messo il cuore ci ha messo tutta la passione che ha e questa cosa è impagabile ok unico acquisto che devo dire la verità non so se sia stato fatto in Italia penso di sì e sono tolto l'etichetta dentro quindi non posso saperlo però è un vestito che adoro e vabbè dopo ne parlerò appunto anche di compromessi non stress e cosa del genere e questo vestito qui io adoro lo adoro indossato è veramente un arbitro romanticissimo lo amo lo amo lo amo ok un altro vestito questo so che è in Italia e che anche questo ah quest'altro vestito l'ho pagato 50 euro e mi sembrava comunque un affarone un vestito stupendo per 50 euro mi sembrava giustissimo il prezzo anche un po' un po' basso e un altro vestito che ho preso al 50% di sconto che costava 100 euro quindi l'ho pagato 50 e questo e anche questo lo amo alla follia ve lo faccio vedere indossato tanto faccio un po' di suoni di tessuto vedete a questo particolare è lungo fino ai piedi e questo rosa mi piace tantissimo è romanticissimo io personalmente non apro mai troppe camicie soprattutto mai troppe camicie bianche è della marca Too White troppo bianco ci sta e mi hanno tolto il prezzo comunque in tutto ho pagato 55 quindi questa o l'ho pagata 32 o l'ho pagata 27 no aspettate 35 55 27 boh mi hanno pagati meno di quanto pensassi mi hanno pagati circa poco meno di 30 euro 27 euro cosa del genere e è bellissimo questo tipo di scollatura e queste maniche che finiscono con un fiocchetto un nodo è meravigliosa è meravigliosa me ne sono innamorata e infine ho preso quest'altra camicetta sempre bianca e questa con un simile collettora coreana con queste maniche con queste maniche ristrette sul fondo questa è l'unica cosa che non mi fa impazzire tantissimo ma mi piacciono comunque a tre quarti e questi due pomponi e anche questa camicia io non sapevo veramente scegliere è obiettivamente 55 euro per queste due camicie è pochissimo c'era il 50% ed è sempre della marca Too White ok ora parliamo brevemente del discorso su appunto il mio shopping consapevole non è uno shopping propriamente solitale né non so se rientri nello shopping etico non ne ho idea so soltanto che anche prima di vedere il documentario che vi consiglio siete se ne volete sapere di più che è The True Cost il costo vero che si trova anche su Netflix voglio ero comunque mi ero sempre un po' fatta cioè da un po' da ottobre hanno cominciato pian piano mi sono resa conto di nutrire un po' questi pensieri di sentirmi un po' in colpa a comprare i capi che sapevano che sapevo in fondo in fondo che sono stati prodotti da gente che viene pagata troppo poco che lavora in condizioni pietose e vabbè guardate il documentario di True Cost fa venire i brividi di far rendere conto di di quanto sia anche malsana la fast fashion che Zara H&M Stradivarius Pesca Pune & Beer anche Sheen purtroppo non dico mi vergogno che mi sotterebbe a terra che ho fatto le collaborazioni con loro però non le farò sicuramente più Zafur tutte queste cose qui sono sempre le stesse cose anzi ho trovato l'etichetta di Zafur e tutto quanto e diciamo che non guardate il documentario dice molto comunque è nato sia da un mio da mio desiderio di liberarmi da questo senso di colpa che comunque mi mi oppremiamo un pochino sul fatto che io stavo indossando cose che costavano poco perché la gente veniva pagata troppo poco e veniva sfruttata e dall'altra parte l'esigenza di cercare nel mio piccolo di sostenere un po' l'economia locale l'economia italiana per questo cerco quasi sempre di comprare made in italy non è una cosa fissa in che senso nel senso che per dirvi nel mercatino dell'usato vabbè se stanno andando l'economia locale è proprio delle persone direttamente però non so nel caso del vestito quello che non sono sicura sia made in italy mi piaceva per una volta va bene così non penso comunque fosse una marca della marca della marca che era non penso comunque fosse soggetto questo tipo di sfruttamento però voglio farvi capire che se volete affrontare questo percorso che non è impossibile assolutamente bisogna anche cercare di trovare prima dei compromessi di non stressarsi e di non dire oddio questo vestito è bellissimo lo cercavo da un botto di tempo però non lo posso comprare perché oppure vorrei comprare ma non sono sicura non stressatevi non dovete sempre è una cosa che fate anche soprattutto per voi stessi per la vostra coscienza per il vostro benessere lo shopping lo fate perché vi fa star bene in un certo senso quindi cercate di non starci male per questa cosa eccessivamente o almeno io ho sempre cercato di non starci male se no avrei mollato subito conoscendomi e quindi prima cosa non non esagerate non buttatevi subito che ne so sull'ico solidale perché secondo me mollerete e perché è una cosa come tutte che va fatta gradualmente mettiamo l'esempio di una persona che vuol diventare vegana prima magari elimini la carne pian piano la carne rossa poi la carne bianca poi il pesce poi diventi vegetariano poi pian piano riduci anche fino a eliminare i derivati animali non è che a un certo punto da un nivoro diventi vegano secondo me e comunque secondo me è molto più facile fare appunto avere un processo in cui pian piano ti abitui ai cambiamenti è giusto così siamo umani e quindi prima cosa con questo discorso comunque io terza cosa non mi ricordo con questo discorso io non voglio assolutamente far sentire in colpa chi fa shopping in tutte le catene insomma in tutte le cose di fast fashion tutte quelle cose che mi mettono anche gli sconti delle cose a un euro un euro e cinquanta due euro e che vi buttano fuori tanta di quella roba che non riuscite neanche a ritrovarla il giorno dopo il negozio quelle sono fast fashion quelle sfruttano e hanno anche dei tessuti che sinceramente non mi piacciono più ci ho comprato ci ho comprato tantissimo ma non riesco più proprio a farmi piacere la roba che lì dentro comunque con questo discorso io non voglio assolutamente accusare o far sentire in colpa o sentirmi superiore alle persone che effettivamente comprano da quei negozi uno perché l'ultimo acquisto che ho fatto ad esempio da Zara è stato l'ultimo acquisto di questo tipo è stato a marzo quindi spudere nel piatto in cui ho mangiato molto recentemente e poi perché penso che ognuno faccia le proprie scelte io l'ho fatto perché mi sentivo in colpa cominciò veramente a sentirmi in colpa però per dire non farò mai una scelta non penso farò mai una scelta per dire di diventare vegetariana capisco la scelta di quelle persone che decidono di diventarlo e stimo anche la scelta ma io non ci riuscirei e non mi sento in colpa mangiando carne quindi voglio farvi capire questo discorso io questo discorso lo faccio per le persone che come a me hanno cominciato a notare questi sentimenti un po' di colpa e vogliono informarsi un po' di più vogliono cominciare a sostenere un po' l'economia locale o a fare shopping un po' più non mi viene mai il termine però consapevole ok adesso vi dirò un po' di marche che secondo me sono molto valide e appunto sono made in italy intanto allora ve li metto tutti comunque qui in descrizione progetto quid è il più famoso però vi devo dire la verità quando è stato uno di quelli che più mi avete consigliato su instagram però è stato uno di quei negozi che subito mi ha fatto un po' ripensare alla mia scelta perché non è il mio stile è lo stile un po' vintage come come è molto lo stile sociale o etico e sostenibile scusate o etico e quindi mi ha un po' allontanato oltre appunto a project quid che è un qualcosa di un po' più particolare ad esempio appunto una marca che mi piace tantissimo è byalis e appunto ve ne ho parlato mi piace veramente tantissimo altra cosa bellissima secondo me è che asos e zalando hanno una sezione per le marche sostenibili quindi voi siete scatti su internet asos sostenibile asos sostenibile o zalando sostenibile mi viene fuori lì quindi è una cosa stupenda perché trovate anche magliettine basiche semplici cose che magari fate più fatica a trovare in altri siti trovate magari cose più elaborate però cioè se io voglio comprare una maglietta bianca sostenibile così non so neanche dove comprarla invece su asos su zalando insomma tutte e due vi trovate anche dei jeans a 40 euro insomma è stata una scoperta molto carina oppure vediamo quale si è qua c'è un altro shop che si chiama Amelia Shop si dovrebbe chiamarsi Amelia Shop e anche quello ha delle cose vichissime stupendo non ho già ancora comprato niente però è a Verona mi sembra delle cose mi sembra delle cose bellissime a prezzi contenuti se no appunto c'è questa marca Joe White oppure anche per dire prima donna è made in Italia a dei prezzi contenuti la marca come si chiama Bottegalotti che fa scarpe e ha dei prezzi contenuti made in Italy e questo è rinascimento ma è un po' più costosa le cose si possono trovare tranquillamente a volte questa cosa mi ha dato anche molto a evitare lo shopping compulsivo piuttosto prendere una cosa solo se che realmente mi piace e non solo perché costa 2 euro perché comunque questa questa primavera ho fatto ho buttato via tantissima roba del mio amato che non usavo più e il 99,9% veniva dai GNM e il restante del 2,1% da Stradivarius OBS da Stradivarius giusto ero curiosa tutto qui proprio non avevo intenzione di comprarci però ho detto proviamo sono passata da Bersca la roba in sconto è il 15 di agosto però sono convinta che non ci fosse per il mio gusto è una roba inguardabile anche la roba non è sconto in realtà la Tastradivarius uguale da GNM non ci entro ma so già che non troverai tanto tra parentesi la cosa che mi sta sulle valli di GNM è che GNM ha una linea sostenibile che costa tipo c'è un vestito che costa 250 euro e allora ti chiedi ma se un vestito sostenibile costa 250 euro quindi di persone pagate normalmente viene quanto sfruttamento c'è dietro al vestito che costa 10 euro e questa cosa mi fa riflettere tantissimo per me è una cosa insensata vendere nella propria linea dei vestiti anche sostenibili perché vuol dire che tutto il resto non lo è e non solo la cosa di eco sostenibile ma proprio il fatto che tutto il resto cioè quello ti costa 20 volte in più rispetto agli altri ed è fatto secondo i normali stipendi e tutto quanto quindi immaginate gli altri comunque vi lascio il documentario per capire meglio tutto se solo se solo se siete interessati ho voluto tenere questa parte anche alla fine del video perché non voglio essere pesante con nessuno è una mia scelta che dico solo quando salto fuori l'argomento non vado lì a dire non so qualcuno prende delle cose da IGNM oppure guardo recentemente mi capito di guardare un video in cui facevano vedere delle cose in sal ed erano tutte queste marghe non è che vado a commentare sotto sei un mostro anche perché non lo penso quindi sì ed è secondo me l'errore di molti che sostengono queste cose che sia vegetariano che sia sostenibile che sia il biologico e tutto quanto il bio bisogna sempre cercare di sì quando capita fuori l'argomento potete anche parlarne però soprattutto non giudicare gli altri perché non è giusto perché non ha senso perché sarete ipocrite sicuramente per qualcosa quindi mai giudicare al massimo se qualcuno è interessato gli spiegate e secondo me soprattutto se qualcuno si mostra felice della propria scelta magari molte persone invece di accusare le persone molte persone magari si diranno ok lui è felice di questa scelta perché come vai e tutto quanto quindi io spero davvero che questo video vi sia piaciuto so che è molto molto lungo però ho voluto farlo così ho voluto parlarne spero se avete delle domande o qualcosa scrivetemi pure secondo me è un argomento molto interessante e spero di averlo affrontato con la giusta sensibilità e non dandovi per niente l'impressione di sentirmi superiore in alcun modo per le mie scelte perché non è così non mi sono mai sentita ma mi sentirò semplicemente è più anche un modo per per incoraggiare quelle persone che volevano cominciare a intraprendere un percorso perché non chiamiamo proprio percorso del genere di far vedere che somma è possibile anche spendendo il giusto non spendo un euro per dei genis però si può ed è possibile per tutte le tasche quindi io vi mando un bacione anzi è giunta l'ora dopo tutte queste chiacchiere di abbassare le luci e augurarvi una buona notte i sogni d'oro buonanotte dormi bene fai bei sogni cali spera